Ciao belli, oggi giochiamo con il Crystal Shard è un item molto molto carino che ho trovato nella Battle Fantasy Mod che è sostanzialmente una mod che introduce una marea di roba ma ora vi spiego tutto mandiamo di holy card e... Cavity, appunto, manca a farla apposta, è un oggetto della nuova mod vediamo cosa fa ok, il 25% di chance di sparare un dente nero che fa 1.25% di damage in più e danno da pozione e ha speciali sinergie con il Rapid Candy e Apple direi prendiamolo dicevo, questo Crystal Shard ha l'effetto che vedete in questo momento ovvero esteticamente assomiglia alle lacrime con Uranus però le lacrime diventano piercing e soprattutto quando colpiscono un nemico si splittano in diverse lacrime quindi vediamo che c'è qua dentro ok, Magic Fingers, prendiamolo giusto per per quanto riguarda invece la Battle Fantasy Mod è appunto questa mod che ho trovato nel Workshop che introduce una marea di roba ragazzi veramente tantissimi oggetti tipo 40 nuovi item, 8 trinket addirittura un nuovo boss e quindi ho detto, beh, sai che c'è, proviamola tra l'altro anche dei dadi sono molto molto carini che proveremo sicuramente in live e soprattutto il Crystal Shard fa questo rumore bellissimo che io lo vi faccio sentire senza musica senti che bello? fantastico è super satisfying e tra l'altro mi ricorda molto il suono di quando prendi l'esperienza su Minecraft non so perché mi ricorda questa cosa e anche per questo motivo ovviamente ho preso Tainted Lost perché ho detto almeno complichiamoci un po' la vita allora siamo in un piano XL potrei prendere i patti di Satana in effetti si, si può fare, dai tra l'altro anche questo oggetto Cavity è fortissimo questo 25% di possibilità di sparare un dente cariato bello, mi piace Cavity intende ovviamente il dente cariato per questo spara un dente nero è molto particolare il fatto che dentro Isaac ci siano così tanti oggetti legati ai denti dovrei fare una run visto che sono originista dentale potrei fare una run con soli oggetti che hanno a che fare con i denti questo trinket è ottimo possiamo entrare nelle corset gratis buonissimo vai vediamo un poco partiamo da qua giusto a caso mai c'è una bomba e infatti ah a posto questa non si manca aperta vorrei una bomba è possibile? vediamo se c'è nello shop non c'è nello shop vediamo un po' cosa ci fa di culo assolutamente no cazzo questo quanto lo vorrei questo è perfetto con il flat file la voodoo head sarebbe incredibile ma purtroppo non abbiamo soldi quindi boss vai Larry Junior lo facciamo subito anche perché gli oggetti attimamenti ce ne sono diversi si potrebbe quasi veramente fare una run così buono stai ecco morto anche monstro prendiamo un po' di range e la cap e qua dentro c'è eh ragazzi assolutamente sì direi direi che meglio non poteva andarci 9 lives con Tainted Lost a posto siamo un po' più tranquilli ora e quindi per questo motivo alt pat vai let's go mi piace come idea farò a breve arriverà una run full denti chi è che potrebbe mai fare una cosa del genere se non io che sono un igienista dentale vai let's go oh quanti soldini grazie the stars possiamo usarla subito però lo prendiamo lo prendiamo subito perché è un buon tier sap di oggetti legati i denti c'è il taflow c'è questo cavity c'è anche un trinket attenzione quindi sì 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 ormai ho deciso che voglio farla secret niente secret beh voi invece come state tutto bene ragazzi io a me oggi è sabato vai vediamo che c'è nello shop una holy card che ci prendiamo così come ci prendiamo there's options assolutamente sì che con i better items di tented lost ci va a nozze io oggi stranamente sto registrando di sabato mattina sono le 11 per essere precisi ed è una cosa che normalmente non faccio perché il sabato lo dedico sostanzialmente a dormire però oggi pomeriggio c'è un avvenimento molto particolare vaffanculo usiamo questa vai non voglio perdere vita inutilmente si potrebbe fare però ci pensiamo vai andiamo nel passo alternativo prima e dopo andiamo dal boss così vi spiego infatti oggi pomeriggio in data 18 maggio sì 18 maggio ci sono le qualifiche di formula 1 io non so se voi lo sapete probabilmente no perché non ve ne ho mai parlato ma su Twitch sì molto ma seguo soltanto uno sport che è la formula 1 e io purtroppo non seguo altro e oggi pomeriggio ci sono le qualifiche cos'è? justice buonissimo ce lo portiamo fino alla cesta questa qua e oggi pomeriggio ci sono le qualifiche del GP di Imola e petrified poop è buono però forse preferisco flat file sì decisamente voglio poter entrare nelle cursed tanto soldi ce li possiamo fare comunque e i miei follower su Twitch lo sanno molto bene perché piano piano li sto facendo appassionare la formula 1 io ogni tanto pre live mi metto a parlare un po' degli avvenimenti delle curiosità sulla formula 1 e sto scoprendo un po' di gente che si sta appassionando e mi fa molto piacere quindi se volete sapere tante belle cose sulla formula 1 oltre a vedermi giocare a Isaac e tanti altri titoli mi raccomando ragazzi dalla domenica al giovedì 21.30 a 23.30 mi trovate su Twitch l'unica cosa è che se venite in chat e mi dite io tifo Red Bull vi banno e mi dispiace nella mia chat aia nella mia chat non sono ammessi tifosi Red Bull e Mercedes sono un despota probabilmente sì vai prendiamo Sintoil finiamoci il piano abbiamo preso un danno e perso l'alimental ma non fa niente perché abbiamo il 9 lives questa cosa mi fa stare un po' più tranquillo vabbè prendiamoci giusto il pezzo di knife tanto per e quindi sono super in hype perché a quanto pare la Ferrari ha portato un nuovo pacchetto di aggiornamenti e io non vedo l'ora di vedere come perderemo anche questa volta cerca di non farmi danno tu stavolta però dai muore muore oi quanto veloce stavi arrivando mamma mia oi caciocavallone prendiamolo subito prendiamolo subito così abbiamo un ottimo tears up e allora non abbiamo bombe per aprire un cazzo di stanza purtroppo e quindi vai non posso neanche andare nel piano alternativo che palle torniamo nel patto normale curse of the blind perfetto esattamente no 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 vaffanculo meno male che ho il dead cat guarda dead cat best item contented lost cazzo una troll bomb che ti segue nella stanza piccola quanto puoi essere stronzo certe volte Isaac vai vediamo che c'è nello shop c'è grid meno male almeno con la curse of the blind ce lo togliamo davanti alle palle stiamo belli lontani anche perché non ho neanche una holicard da poter utilizzare ok steam sale buono buono steam sale ottimo grazie una volta ogni tanto sei utile ehi attenzione tu sei ma a parte la mia passione per la formula 1 voi come state spero tutto bene come al solito e come sempre se così non dovesse essere spero che almeno questo video vi dia un po' di distrazione dalla vita di tutti i giorni vai vediamo cosa c'è qua dentro ok questa è una stanza nuova tipo o è solo molto rara non mi è mai capitata non so se è della mod però non l'avevo mai vista prima cerchiamoci la treasure room vai anche se abbiamo la curse of the blind potrebbe essere molto un rischio contented lost ma noi ci proviamo lo stesso che è successo come sono morto non ho neanche visto arrivare bastarda bastarda moschina ecco qua la treasure room cerchiamo di trovare prima possibile più che altro una holicard attenzione vai vediamo che c'è qua dentro ehi bel ok è inutile però è conjoined vai boss perfetto morto subito vai gambling ok range ok qua veramente completamente a caso anche perché non possiamo dire se è un patto da uno o due cuori quindi vai buonissimo the mark buonissimo danno e speed up va benissimo così allora potremmo cercarci la secret room vediamo dove sta faccio un giro forse qui era qui esattamente vai magic mushroom sono triste sono tristissimo va bene let's go andiamo da qua dai un patto alternativo vai let's go ah niente course meno male possiamo andare vai course drum con tre ceste rosse speriamo bene buonissimo buonissimo due tre di gappi ottimo vai tre su tre di gappi dai cazzo ci ho sperato pillorona cos'è imatemesis abbastanza inutile con lui questo invece cos'è explosive di arria perfetto la cosa peggiore che poteva capitarmi andiamo no aspetta riprendiamoci la gappi sed che me ne faccio di magic finger almeno usiamo un po' di mosche che culo ah 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 non me l'aspettavo per niente vai siamo gappi yes yes eccolo qua l'altro oggetto a tema denti il dead tooth non volendo stiamo facendo la run denti e quindi ragazzi lo prendo mi dispiace non ce ne facciamo niente contented lost ma ormai è andata ah 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 quante cose sbagliate in questa run tutte insieme ah 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 che culo gappi così mi ha trollato nel bene però questa volta quante probabilità c'erano che mi dava una cesta rossa completamente a caso e mi dava un terzo oggetto di gappi che culo ah 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 lo ammetto candidamente questo è culo quando è skill è skill ma quando è culo è culo se troviamo il tough love è la run full igienista dentale altro che le run per provare le mod e il crystal shard ma chi se ne frega a proposito di mod qua non posso entrare perché veramente è un cazzo di bomba in star run tra l'altro dicevo parlando di mod l'altro giorno in live abbiamo provato la epifany perché la gente mi aveva detto guarda provati la epifany e sbloccati tarnished samson perché ha un metodo di sblocco fighissimo ed effettivamente è vero abbiamo fatto questa run in cui praticamente abbiamo sbloccato tarnished samson e ci siamo riusciti anche perché abbiamo avuto un culo stratosferico primo piano abbiamo trovato il polifimus e il birthright quindi praticamente stavamo in perma rage e abbiamo fatto così tutto quanto prendiamoci questo che è buono il broken watch potrebbe essere un po' un rischio facciamoci il boss e dopo finisco di spiegarvi una cosa mamma tu quanto sei brutto muori subito dai dai muori eh che cazzo muori 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 mamma mia ok prendiamoci altro danno perché il tir rate è già buono così potremmo cercarci la secret room però abbiamo soltanto una bomba c'era qualcosa nello shop abbiamo detto no non c'era assolutamente niente che ci potesse interessare qua non abbiamo bombe neanche e quindi tocca andarsene aspetta vediamo cosa c'è nella challenge però buono altro tir sap lo prendiamo non l'abbiamo preso come boss item lo prendiamo qui vai uno è andato e che palle di nuovo tu non dovevamo vederci più disse un vecchio saggio ma scusami eh scusami veramente addosso mi si è saltato vabbè ho preso l'item non fa niente andiamogene subitissimo ma proprio addosso mi è saltato cosa stavo dicendo ah l'epifani ho sbloccato insomma tarnished samson lo abbiamo anche provato ed è molto difficile anche se almeno una run l'abbiamo finita questa è la stanza più brutta della storia ma grazie al flat file ce la possiamo scampare vabbè ragni e mosche non ce ne facciamo niente quindi abbiamo fatto una run abbiamo fatto una run con tarnished samson contro the lamb ci siamo riusciti molto molto a fatica ma è andata ho avuto però durante la run un enorme problema ovvero il frame rate sostanzialmente giocavo a tipo 20 frame al secondo e io soffrivo come i pazzi vai vediamo che c'è qua dentro growth hormones buono 2 3 di span nel frattempo vi spiego soffrivo tantissimo perché mi dispiaceva tanto darvi questo tipo di spettacolo ovvero uno che gioca ha un cazzo di frame al secondo e due perché anche per me era proprio ingiocabile e non riuscivo a capire perché inizialmente ho dato la colpa alla mod perché dicevo vabbè è una mod molto pesante probabilmente non molto ottimizzata ho bestemmiato un po' però ho detto vabbè purtroppo va così in realtà poi cercando un po' con line e soft diamonds teniamocela per una stanza grande le palle di keeper siamo a depth 2 ci serve neanche così tanto prendiamoci il charget baby e vabbè dai giusto per avere un po' di danno non più da questa da questa questino qua e anche da questo non la usiamo però la prendiamo per il danno stavo dicendo ah sì cercando online però vedevo che sostanzialmente nessuno aveva questo problema di frame rate basso con l'epifani e ho detto ma che cacchio è successo perché poi ho fatto altre run anche prima di questa qua e ho visto che non era il problema l'epifani perché disabilitandola andavo comunque molto molto a scatto e mi stavo innervosendo come i pazzi perché ho comunque una 1080 ti che va bene non è una serie 40 però non è manco una scheda proprio fessa fessa e quindi insomma va a capire che è successo che non è successo e stavo perdendo la testa grazie vediamo che c'è qua dentro anche questo è un item è un item ah questo è della battle fantasy tears up e damage beh direi che lo prendiamo assolutamente siamo anche yes mother insomma comincio a indagare come i pazzi dico ma che cacchio è che mi rallenta così tanto finché non scopro la causa ve lo dico dopo la treasure room buonissimo lasty blood buonissimo sarebbe ottimo se trovassimo anche rock bottom ma va bene anche così c'è una chest qua ah non l'avevo vista cerchiamoci la secret room insomma dopo varie peripezie scopro che il problema era il cazzo di software della mia tastiera e voi direte ma cosa c'entra eh santo dio io ho una steel series pro tkl e altre cifre a caso è una tastiera ottima sostanzialmente perché vediamo che c'è qua super grid va bene almeno l'abbiamo trovato qua dentro e non da altre parti dicevo è una tastiera veramente veramente buona perché ha una funzione molto particolare ovvero il fatto di poter scegliere la corsa per l'attivazione dei tasti nello specifico faccio mamma e dopo finisco di spiegare si ragazzi lo so ma lascio sempre i discorsi a metà però devo fare il boss e non posso non posso vai andiamo su siamo anche in tempo per fare la boss veramente cosa c'è di interessante vediamo un altro oggetto a tema denti eh mh le vismascara potrebbe non essere male e questo invece è 2-3 conjoined eh cosa prendiamo prendiamo le vismascara ma che ci sto anche a pensare ok visto che abbiamo da fare la boss lascio nel frattempo vi posso spiegare dicevo questa tastiera ha questa funzione molto particolare ovvero io posso scegliere la corsa dei tasti da 0,1 mm a 4 mm capite bene che questa cosa qui è strautile se giochi competitivo tantissimo perché una corsa da 0,1 mm vuol dire che sostanzialmente io sfioro la tastiera e i tasti vengono premuti dico letteralmente cioè se io do un pugno alla mia scrivania la tastiera si attiva non sto scherzando magari poi ve lo faccio vedere in una clip allora calcolate che quando esce tipo l'aura bianca vuol dire che un tasto si è attivato guardate la corsa che ci vuole per far attivare un tasto ecco io lo sfioro appena e si attiva la tastiera ma soprattutto guardate anche così anche così si attiva io non so come sia possibile questa cosa è ipersensibile ma è bellissima vai possiamo tornare al video oppure posso mettere 4 mm se mi serve per scrivere o quant'altro per la post produzione quando non mi serve un'eccessiva sensibilità comunque tutto sommato è una tastiera eccellente però ha un piccolo problema ovvero il cazzo di software per poter tenere i driver installati è un programma non pesante è un cazzo di mattone che in confronto google chrome è veramente un programma open source da 400 kilobyte voi non ci potete credere che dentro al software della mia tastiera vi ricordo un software per una tastiera c'è un aim training cioè c'è un gioco all'interno del software che ti permette di allenarti a sparare ma io dico a cosa cazzo serve cioè di questi software è pieno steam ma perché l'avete integrato in una tastiera cosa che non capisco comunque per farvela molto molto breve recentemente hanno fatto un aggiornamento che praticamente introduce lo steel series moments prendiamolo spero un carretto buono per le ma è già finita la boss mamma mia ma che danno facciamo beh 23 di danno effettivamente è tanto vai andiamo let's go dicevo hanno introdotto steel series moment e voi direte e che cos'è steel series moment è praticamente 4 3 di cappi ok ce lo teniamo è praticamente un software che registra i giochi e nel momento in cui ho estratto l'aggiornamento si è attivato di default che cazzo di scelta è questa qua e sostanzialmente io avevo un software tipo obs cioè che mi registrava il video sempre costantemente attivo e mi occupava una marea di ram e non me ne ero accorto per questo tutti i giochi mi andavano a scatto ultimamente perché praticamente questa cosa qua stava in rec continuo tipo come quando faccio con obs però con obs scelgo avviare la registrazione con questo moment no cioè loro hanno aggiornato l'applicazione e hanno deciso che doveva essere attivo di default direvi voi che stronzata è a me stasera piace però steel series che cazzo e quindi insomma l'ho disattivato e tutto è tornato alla normalità indie per cui dev dell'epifany scusatemi se vi ho bestemmiato tutti i vostri parenti non volevo ma era colpa di steel series comunque si è messa molto bene la rana sono contento certo abbiamo avuto un culo smutato con quel gappi e anche questo è Isaac vai siamo subito al boss dobbiamo cercarci anche la secret room questa l'abbiamo trovata già cerchiamoci la super secret allora assolutamente non c'è niente però potresti darmi un oggetto tu andiamo un poco ok vabbè la treasure map è abbastanza inutile ok direi boss let's go ma scusami ragazzi ma non è giusta questa cosa ho saltato addosso guardala che stronzo ma perché a caso a sinistra giusto dove me l'ho messo io poi vabbè non fa niente prendiamoci le bombe quello poteva essere span però non ci ho pensato va bene vediamo cosa c'è nel patto scusami ma allora quanto è cursata questa devil room ma vaffanculo Isaac di merda non ne apro neanche una andiamocene mamma mia non mi è mai successa questa cosa 5 chest rosse 5 bombe è anche vero che prima praticamente in 3 chest abbiamo trovato gappi quindi Isaac mi ha punito questa volta vai vediamo che c'è nel secret room assolutamente niente se non soldi ci servono i soldi direi proprio di no andiamo comunque è veramente molto molto carino questo oggetto sapete beh giochiamoci un po' di soldi qua anzi finiamoci i soldi qua cos'è brapped candy tractor beam è il d10 il d10 non ci serve vai dammi quel tractor beam dammelo bastardo devo andare a cercare un po' di soldi tra l'altro il crystal shard non ci diceva che aveva una una sinergia speciale con il brapped candy vediamo come funziona mi sembra uguale non mi sembra che sia differente rispetto a prima sinergia in che senso vediamo con una è assolutamente identico vabbè non fa niente teniamocelo così è comunque un damage up quindi ottimo dammi soldi perché io voglio il tractor beam Isaac voglio quel cazzo di tractor beam dai dai forza cazzo c'erano ah questi si potevano esplodere però per soldi giusto mi ricordavo bene sì 5 monetine andiamo cazzo oh ma il 20% di possibilità c'era in questa cosa eh perché dammi quell'item di merda ah cazzo ma che c'è quando è una challenge magari c'erano soldi da qualche parte va bene range up è comunque buono prendiamolo no no tu devi morire subitissimo dai perfetto va bene allora l'unica cosa che possiamo fare è dare delle bombe allo stronzetto qua sperando che ci dia abbastanza soldi dai eh ragazzi ultimo tentativo ti prego che culo ah 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 vai vai tractor beam prendiamolo eh prendilo dai perfetto perfetto andiamo dal boss let's go oddio che danno che abbiamo fatto oddio mio mh ash ah forse ash non mi sento così sicuro però sapete tra l'altro anche il void pensa un poco eeeh mh vai facciamolo facciamolo non sono un codardo facciamolo speriamo che ci vada di culo con gli oggetti qua dentro adesso no bruttino buonissimo buonissimo ok 43 di danno perfetto che culo questa cosa vediamo cosa c'è qua dentro eh una holicard eh cazzo non posso prenderla non posso prenderla aspetta forse ci sono dei soldi qua ah no pochissimi soldi pochissimi soldi tre monete ce la facciamo tre monete che culo che culo vai prendiamo la holicard e attiviamola va bene eeeh ok lo sculbe che va bene e prendiamoci la everything jar abbastanza inutile però si può fare eh justice ce la portiamo e andiamo vai possiamo stare molto molto lontani per fortuna e facciamo un danno della stramadonna veramente facciamo un danno assurdo dai forse è fattibile ah è certo che è fortissimo perchè anche le lacrime che si splittano rimangono direzionate con il tractor beam certo ci sta vai vai è già metà vita si può fare ok dai 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 cazzo ho perso l'alimentol non fa niente non fa niente non fa niente l'alimentol è per i nabbi dai 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 yes yes meno male non mi sentivo per un cazzo sicuro ma è morto perfetto abbiamo preso il positivo quindi let's go vai contentissimo di questa cosa curse of the blind dammela ora bravissimo che non la voglio dopo che ho justice comunque il flat file got di questa run assolutamente grazie a noi abbiamo preso i cappi ma tu che danno facciamo giustamente abbiamo 44 di danno con le mosche che fanno il doppio del nostro danno mi sembra pure giusto che facciamo il delirio su qua il boss potrebbe essere qua sopra no vai vediamo che c'è qua dentro vai facciamolo va bene ok c'è andato una vita ero molto molto impaurito dal fatto che ci potesse capitare il curse die veramente tanto però c'è andata bene per fortuna vai super secret vediamo cosa c'è apriamo questa chest con un oggetto che è magic hate ball va bene c'è andata benissimo vai Isaac tu muori subito anche e si va bene spawnameli proprio nel buco del culo il laser eh mi raccomando la prossima volta ma vaffanculo me l'ho proprio visto va bene andiamo niente me come Microsoft Blind di nuovo io adesso urlo adesso urlo vai e ovviamente anche tre chest ragazzi me la rischio non fa niente golden razor merda sparasite benissimo trottentometo ottimo eternal d1 questo è anche della della nuova mod non so cosa sia ora vediamo decap attack va bene inutile blood of martyr buono e mon equal power c'è andata abbastanza bene vediamo cosa fa questo eternal d1 ah ok spawna una copia esatta del pick up simile al pre nerf del d1 ah va bene non è così utile probabilmente teniamoci la everything jar guarda ci vuole veramente sfortuna meno male che parasite almeno ce l'ha dato facciamo un danno incredibile adesso andiamo di nuovo un po' a scattimo quello è colpa di parasite ve lo posso confermare questo è il callo di frame rate da run troppo forte e mamma mia questa stanza spiked chest no non la voglio prendere spiked chest perché devo perdere una vita così inutilmente vediamo che c'è qua dentro magari ne temino no assolutamente no cerchiamoci il boss dai che dovrebbe essere qua sotto in teoria e infatti vai facciamo giusto una visitina dalla super secret room assolutamente niente interessante e andiamo da blue baby andiamo a shotarlo dai perfetto morto boom niente void perché ovviamente anche stavolta mi sono dimenticato di mettere la mod e quindi let's go andiamo finita yes allora questa mod sembra molto molto interessante il crystal shard è chiaramente fortissimo e con le giuste sinergie può diventare veramente una roba ottima ma in generale la mod voglio provarla un po' più in maniera approfondita per vedere tutti quanti gli altri oggetti va bene amici belli io come al solito vi ringrazio per essere passati vi ricordo che il modo migliore per sostenermi è mettere un bel like al video e iscrivervi e noi ci vediamo alla prossima run ciao belli ciao ciao